E finalmente a casa, dopo tutto che tu oggi hai visto un iditocca, ma no, vabbè, voglio morire. E' l'estate, la gente c'è spazzato il menno, la cucina all'estate. Ma finalmente pranzo, finalmente, le quattro, vabbè. Ma che è sta meraviglia? Riso, freddo, con gamberetti, rucola, mais, e tonno. Ragazzi, io gli ho messo la maionese. No, 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 io gli ho messo la maionese, però se volete, in alternativa, gli potete mettere il succo del limone. Ah, il succo del limone, cioè, chi non piace la maionese. Guardate che meraviglia, ragazzi, non so se... Ah, ma non credo che ho cattato questi belleprondo, tipo, dove stai vai di Frank? Per le prondo io non compro nulla. Ah, no, scelto. Va bene, ragazzi, a dopo, io dopo tutto quello che ho già visto su TikTok, mi mangio sta meraviglia. Ora, mo ti scrivono la ricetta, vogliono sapere... Ma l'ho già detto, scaldate il riso, lo fate raffreddare e lo girate con la maionese. Scelto. Gli mettete i gamberetti freschi, belli, scaldati. Già sbollentati. Il tonno. Scelto. Un po' di mais e l'arrugola a pezzetti. Non ci vuole niente, in pratica. Ma ovvio, di una semplicità. Vabbè, buon pranzo, ragazzi, a dopo, no? Fresco e leggero. Scelto. Ma è la sola dieta. E... Grazie.